Ciao, sono Antonio ed oggi vi presenteremo un'auto appena tagliandata e trattata con additivi della Blutech Prime Technology. L'auto in questione è una Lancia Musa 1.416 valvole DFN con più di 120.000 km. E' stato eseguito su quest'auto un lavaggio con il prodotto per la pulizia interna del motore. Dopo è stato aggiunto l'olio consigliato dalla casa, più l'additivo nanotecnologico. Stessa procedura eseguita per il cambio, pulitore più il nostro additivo della Prime Technology. Inoltre è stato cambiato l'olio dell'attuatore perché l'auto ha un cambio automatico robotizzato, costituito da un attuatore idraulico. L'auto è migliorata tantissimo. La risposta è molto più morbida e veloce. Il cambio non ha più gli impuntamenti che aveva prima e sembra quasi di guidare un'auto nuova. La risposta, come ho già detto, è precisa. E anche l'accelerazione. Notate il cambio di marcia e la scalata. La risposta, come ho già detto, è una risposta per la pulizia interna per la pulizia internazionale. Non ci sono più gli impuntamenti che c'erano prima, tra una cambiata e l'altra. Un saluto alla prossima e grazie a PureTech Prime Technology per i suoi prodotti. Grazie. Grazie a tutti.